Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà almeno non so quanti mesi che non faccio un nuovo video I miei capelli sono diventati intanto color magenta Allora, per chi ancora non mi seguisse Vi invito a seguirmi A lasciarmi un'iscrizione Se vi va, ascolta ragazzi, ormai sono abituata con il canale di Ola Non so più cosa dire nei video Vi invito a lasciare un'iscrizione se vi fa piacere E mi raccomando guardate il video fino alla fine per sostenere il canale gratuitamente E niente, se eventualmente ci sarà della bucita, guardatela anche se io in questo caso non monetizzo Allora, volevo fare questo video perché secondo me ha una grande importanza Perché, allora io sono sincera, sono più sul canale di Ola che vi lascio qua sotto in descrizione Che sarebbe Twitch, non so perché a volte non si possa dire Ma comunque, di che cosa sto parlando Invece sono sotto tutti i miei social Mi trovate su TikTok, Instagram Non ho Facebook perché me lo sono tolto Però TikTok, Instagram, il canale Viola Questo canale ovviamente Procediamo con l'argomento Allora, io molti mi hanno detto Mi hanno chiesto di altro Sul canale appunto Viola Sul canale rosso Su tutti i tipi di social Perché sono passata da YouTube a Twitch E perché poi mi sono fatta anche di TikTok Allora, tutto è noto dal fatto che io mi trovo benissimo su YouTube Da parecchi anni ho avuto anche un canale ASMR Che poi ho chiuso perché non ci ho gestito due canali Io sono qua da, penso, non so quanti anni ormai Mi piace fare video Il resto, anche se appunto da tanto tempo che sono li faccio Quelli che avete visto, gli ASMR sono pre-registrati E sono dell'anno scorso Perché tutto è noto dal fatto che Ero prossima alla monetizzazione Ma YouTube ha ritenuto opportuno Togliermi un botto di ore Allora, io lì per lì Mi sono arrabbiata E ho deciso Di buttarmi su Twitch Già anni fa molte persone mi hanno detto Red, vai a fare Twitch Secondo me sei più portata Perché hai una buona dialettica, parli tanto E così va a TV Perché poi io con questa incazzatura Sono andata a streamare Verso marzo dell'anno No, di quest'anno Sono andata praticamente A streamare su Su Twitch Così, ma per gioco E ho visto che le persone Piaceva quello che portavo Anche perché porto Non solo giochi Perché molti pensano che Twitch Ci sia solo giochi Non porto solo giochi Porto Iniziato con i giochi ovviamente Non porto anche just chatting Quindi parlo Chiacchiero Porto i giochi Faccio tante Tante cose adesso C'ho anche un forum mio Il campanello deve suonare Quando faccio i video Justamente Questo video non verrà tagliato raga Come stavo dicendo prima Che mi si inzuppasse Il coso nell'acqua Dopo la porta mia madre Allora, praticamente Questo video non lo monterò Ovviamente uscirà così Bello bello Sono passata appunto Su Twitch Ho visto che In poco tempo Venivo comunque più considerata Non perché qua non lo sia Adesso come ora come ora I miei video li cagano Forse due o tre persone Però ci tenevo Ci tenevo comunque a fare Questo video Perché comunque Non abbandonerò mai YouTube Come mi piace anche tantissimo Stare su TikTok Fare TikTok Però penso che Ora come ora Io preferisco Twitch Semplicemente per il fatto Che penso che sia un po' Più personale Perché l'arbre Le fai nel momento Parli con la gente Nel momento Però Comunque Io me lo faccio a fare video qua Farò video magari Unboxing Qualcosa MR Che ci vuole molto impegno Se volete seguirmi anche sul canale Appunto Vi ho la Twitch Sotto ci sono tutti I miei social Vi lascio E niente Questo principalmente È tutto Questa una questione Diciamo Più che altro Per Per come mi trovo Non solo perché È vero Monetizzo Anche se Monetizzo su Twitch Cosa che su YouTube Non sono mai riuscita a fare Ma semplicemente il fatto Che non l'ho cercata Mi ci sono buttata Così semplicemente Perché mi andava E ho scoperto Una parte Di un social Veramente bello A parte che adesso Ovviamente Tutti i social Non sono i pro e contro Però Luce Boh Sono diventata boogie man Poi farò un video a parte Vi spiegherò i pro e contro Di tutti i social Tra il dissing E tante altre cose Che ci tengo molto A fare questo video Perché su Twitch Parlarne è difficile Si chiama puttiverio Quindi preferisco farlo qui Io Niente Vi saluto Vi invito Di nuovo A lasciare un commento Un like Anche se il like Comunque li tolgo Perché Così Tolgo La voglia della gente Di mettermi dislike Mi piace togliere Questa voglia della gente Di mettermi dislike Perché non li vedete Li vedo solo io Beh non andano fastidio Perché tanto Valgono uguali Vi ringrazio E vediamo A un prossimo video C'è la punta E vediamo E vediamo A un prossimo video